Non so perché, gli autori mi hanno scritto questa dicitura. Oggi parliamo di musica e lo facciamo viaggiando indietro nel tempo. Che vuol dire questo? Bianca Quaccero, From By Tont, O Double Tont, O Double Stupid. Allora, Chiara Bianca, questa musica, ma soprattutto il lancio che hai fatto, introdurte. Io sai che è da mesi che studiano le tue capigliature, perché sto cercando di capire dove vuoi andare a parare con questi capelli. Sto aspettando che riaprano i parrucchieri, questa è la verità. Allora, attenzione amici, oggi viaggio nel tempo, perché giustamente hai detto cosa significava quel messaggio. Eh, infatti. Oggi ti faccio contenta. Anche voi, amici a casa, oggi farete un viaggio nel tempo, perché andremo a scoprire e ad ascoltare, soprattutto a testare la preparazione di Bianca Quaccero sulle sigle dei cartoni. Animati! Eh, vabbè, allora puoi già uscire dal definito, già non c'è storia, non c'è gara, ciao. Vedrai, vedrai, tra l'altro amici a casa, sfidatela, giocate contro Bianca Quaccero, perché vorrei ricordare a tutti che ovviamente il gioco... In palio? In palio c'è... Niente! Siamo i più grandi distributori di niente della storia della televisione. Allora, sono canzoni che però appartengono a tutte le generazioni, quindi sfidate i vostri zii, parenti, nipoti e quant'altro. Bianca Quaccero, come al solito, avrà pochi secondi per capire di che canzone si tratta, se la capisce dice stop, se non la capisce dico stop io e ci prendiamo gioco di lei. Pronti con la prima canzone? E gira? Vai! Stop! Stop! Allora... Occhi di gatto. Questa non ti atteggiare, quando ti atteggi non ti sopporto proprio. Allora, questa l'ho messa a posto per farti contenta. Sentiamo la conferma. Vabbè, dai. L'ha anche cantata dal vivo, non dimentichiamola. Ma questa era facile. Ok, regia? Fermi. Hmm... Ha ha! Questa è difficile? Non lo so, dipende se... Cos'è, ma zingazzetta? Eh, fatti fatti tu, perché poi è capace che la... Della Pecchi. Regia, vai! Stop! Stop! I puffi. Però anche con meno sufficienza, potresti chiaramente sfizio. Per cortesia. Regia! Se punti siamo così, mettiamo questi blu, puntiamo tutto e giù. Due mele o poco più. Stop! Ok? Ma con una figlia di sei anni, Gianpaolo, ho fatto un revival da sei anni che... Ah, vogliamo esatto. Il titolo esatto. Aspetta, sì. Grazie alla nostra autrice Barbara che vuole metterla in difficoltà, se no... No, no, aspetta, sì, però fammi concentrare, stai un po' zitto. Sì, sì, sto zitto, sto zitto. Zitto è buono! Sì. Vabbè, andiamo avanti, dai. Noi buffi siamo così. Andiamo avanti, terza canzone. Sì, siamo così, eh. Sì, noi buffi siamo così. Pronti? Regia? Vai! Stop! Mamma mia, ma qua... Io non lo so... Mila e Shiro, due quali nella palla a volo. Sei insopportabile, regia, sentiamo. Ok, stop! Però diciamo che non sono preparato, io non so mai quello che mi proporrà, quindi, cioè... Non so mai niente. Però poi è facile da casa, diciamo, ma le le sani? No, non so niente, è proprio nata così con questi problemi, ok? Esatto. Diciamolo che rispetto alle altre canzoni, di solito, le canzoni dei cartoni animati, quando siamo cresciuti sentendole dall'inizio, quindi anche un po' più facile. Sono proprio incastonate nella memoria. Sì, come la spilla qua. Stigmatizzate nell'anima. Pronti? Questa secondo... Stigmatizzate, era bellissimo. Pronti? Questa secondo me potresti dubitare. Regia? Vai! Stop! Dimmi. Oh, Lady, 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 Oscar, e tutti fanno festa, quando passi tu... Conferma, regia? Lady, 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 Oscar, tutti fanno festa, quando passi tu... Oh, Lady, 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 Oscar... È già finito il giorno. No, 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 io vorrei stare un'ora adesso a fare... Eh, no, che dai, però... Allora, quella che c'era da scaletta, ok? Dai, dai. Questa secondo me non la sai davvero. Regia, vai! Stop! Carletto il principe dei mostri. Ma anche questa! Cioè, non... Ma lo vedevo d'estate con mio fratello! L'ultima, via, via, regia, l'ultima! Dai, l'ultima, l'ultima! Vai! Stop! Che cos'è? Heidi! Sentiamo la conferma. No, ma è incredibile. Non è neanche iniziata. Cinto nido e sui monti. Heidi! Allora, ti dico questa e me ne vado, me ne vado perché non c'è tempo, ma la prossima secondo me non la sapevi. E con questa vi lascio... Ma possiamo sentire un secondo? Dai, un secondo, dai. Stop! Pollon! Ciao a tutti! Ma è niente! È finita, va, va! Sì, nel tempo felice tu stai, la beniamina di tutti i bei sei, sei tu, o, 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 o.